Grigia, 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 una piscina grigia. Mi ricordo dire le cose negative, le emozioni negative. Migliora il proprio umore o lo peggiora? Secondo me io avrei dato scontato con una cosa negativa o positiva. Lo sapete? È una roba bellissima. È una roba bellissima. È un po' il piatto del giro del traffico, di tutto il giro del pesante. Quindi, persona che fuma o brucia cose, è tardi, è notte, è un po' inquietante e ci si sposta. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.